È scontro sulla cartellonistica del santuario dedicato a Papa Uetilia, che non ci sarà più. Il Comune infatti non ha rinnovato la convenzione, mentre la Fondazione Cari spacca si fa avanti per sostenere le spese. Pasquale Corriere non è stato tenero nei confronti dell'assessore alla cultura e al turismo del Comune dell'Aquila, Sabrina Di Cosimo. Il fatto è che il santuario di Uetilia a San Piero della Ienca non avrà più la cartellonistica sulla A24, perché la segnaletica sarà rimossa dentro questa settimana. Non è stata rinnovata infatti la convenzione con la società Admoving dell'ANAS che gestisce questa pubblicità. Così il Gran Sasso muore, torna a dire Pasquale Corriere, presidente dell'Associazione di San Pietro della Ienca. Il Comune avrebbe dovuto scrivere semplicemente una lettera, ma non è stato fatto, dice. Intanto però qualcosa si muove anche a livello internazionale. Nel locale si fa avanti la Fondazione Carispac per tramite del presidente della Fondazione Carispac, Marco Fanfani, disponibile a sostenere le spese della cartellonistica del santuario. La Fondazione sarebbe disponibile, insomma, a sostenere questi cartelli sull'autostrada. In questi giorni poi si è fatto vivo anche un gruppo polacco, che si sta muovendo a livello internazionale, come dicevamo, per raccogliere i soldi necessari. L'assessore Di Cosimo è stata chiara, ci sono altre strategie, ma le polemiche non si placano. Intanto il 24 aprile arriverà al santuario di San Pietro alla Ienca l'Università Cattolica di Lublino della Polonia, quella in cui ha studiato e insegnato Papa Giovanni. Saranno un centinaio i polacchi nel borgo della Ienca per festeggiare 100 anni della fondazione di questa università.